Un vero e proprio arsenale da guerra è stato trovato in un nascondiglio di una masseria di Andria nel nord barese. 65 fucili mitragliatori d'assalto, 33 fucili, 99 pistole, mine anticarro, bombe a mano, circa 300 detonatori e 10 silenziatori per pistole. Il sequestro è stato compiuto durante una perquisizione disposta dalla DDA di Lecce e dagli uomini della squadra mobile della Questura di Bari. Le lunghe indagini fatte da intercettazioni ambientali, telefoniche, pedinamenti e riprese fotografiche erano state avviate dalle procure di Trani e dalla DDA di Bari nell'ambito di un'inchiesta più ampia. Poiché è emerso un collegamento già all'attenzione dei magistrati salentini, gli atti sono stati inviati alla DDA di Lecce che ha deciso di intervenire per sequestrare l'ingente arsenale da guerra. Sulle armi saranno avviate perizie per risalire alla provenienza, alla destinazione e all'effettiva titolarità. Durante la perquisizione è stato bloccato e portato in questura a Bari l'imprenditore agricolo titolare della masseria e un incensurato che quasi certamente custodiva le armi per conto di altre persone. L'arsenale è stato trovato in una botola murata e sigillata da un fabbro. Sopra si trovavano una cucina e un frigorifero ma gli agenti sapevano dove cercare, forse perché avevano ricevuto un'imbeccata da qualcuno, forse perché dalle intercettazioni in corso era emerso in luogo in cui era custodito l'arsenale. E forse il più importante sequestro di armi mai effettuato nel paese, commenta a caldo il procuratore di Lecce, Leonardo Leone De Castris, che non ama mai sbilanciarsi e i numeri sembrano però dargli ragione.